5 del mattino sono pronto ad uscire un bacio e chiudo dolcemente la porta salgo in macchina il pieno è fatto uno sguardo all'attrezzatura e si parte di nuovo qui e fortunatamente non c'è nessuno preparo il campo e sono già in barca tazza di caffè tramonto e l'avvisatore urla pochi secondi la canna si piega la sento pesante lenta mentre ripenso all'incidente questa volta non la perderò perché ho fidato il mulinello ad un professionista ogni mulinello merita il massimo